Blitz della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nella sede della Croce Bianca di Rigutino. La Procura di Arezzo ha aperto un'indagine per approfondire alcuni aspetti amministrativi della gestione dell'Associazione di Assistenza presieduta da Pierluigi Faltoni. In particolare, sotto la lente degli inquirenti, l'utilizzo dei fondi a disposizione dell'Associazione. Il controllo disposto dal sostituto procuratore Marco Dioni è avvenuto nelle sedi di Arezzo e Rigutino, paesi alle porte della città. Pochissime le notizie che filtrano tutto sarebbe partito da un esposto presentato ai Carabinieri. La Croce Bianca di Rigutino si occupa di pubblica assistenza, trasporto per esami specialistici, consegna di farmaci, trasferimenti sanitari e onoranze funebri. Il presidente Pierluigi Faltoni per il momento non commenta. Abbiamo fornito documenti, si è limitato a dire e affidato tutto nelle mani del nostro legale.